I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Fano e di terre roveresche sabato scorso hanno arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di cocaina una giovane coppia, lui 25enne albanese senza lavoro e con precedenti di droga, lei 22enne commessa fanese incensurata. L'indagine è partita dalla segnalazione di un cittadino che ha segnalato ai carabinieri la percorrenza di un'auto sospetta con a bordo i due giovani che erano diretti a un campo di girasoli. Grazie alla targa fornita i carabinieri sono riusciti a risalire al proprietario della vettura, ovvero la ragazza e poi successivamente al compagno. L'intero campo di girasoli è stato perlustrato a fondo con l'ausilio dei carabinieri cinofili. Dalla perlustrazione è risultato che tra la vegetazione del terreno è stato recuperato un sacchetto di plastica dove erano custoditi circa tretti di cocaina, un bilancino di precisione, i classici ritagli di forma circolare utilizzati per confezionare le dosi. Ai carabinieri è bastato sorvegliare la zona ad attendere l'arrivo dei proprietari. I giovani sono stati fermati da una pattuglia dei carabinieri che è stata allertata dai colleghi in appostamento. Il ragazzo è stato trovato in possesso di circa 50 grammi di cocaina, in parte già confezionata, mentre la ragazza aveva nella borsa circa 1000 euro in contanti, in banconate di piccolo taglio, denaro in cui non è stata in grado di giustificare il possesso. La coppia, dopo la formalità di rito, è stata trasferita presso il carcere di Villa Fastigi di Pesaro, dove nella mattinata odierna il GIP ha convalidato l'arresto applicando la custodia cautelare in carcere. Sono attualmente in corso le indagini per identificare il grossista del quale si fornivano nonché i piccoli spacciatori e consumatori che a loro volta si rifornivano.